Amici, anche oggi realizzo questo video per far vedere l'oggetto a 360 gradi. Stiamo parlando di questo anello solitario, veramente un gioiellino, realizzato in metallo galvanizzato. Praticamente la galvanizzazione sarebbe un bagno, galvanico a base per dare questa lucentezza, vedete, o argento o d'oro bianco. Vedete? Da questa cromatura effetto argento o effetto oro bianco, si chiama galvanizzazione. Al centro abbiamo montato uno strass, vedete, che dà questo effetto di un diamantino brillantato, ma è uno strass però, no? Vedete? Abbiamo praticamente, è al centro, allora, la grandezza della pietra è di 6 mm. Vedete? 6 mm. È veramente un gioiellino, guardate che grazioso. Ben rifinito, infatti realizzo appunto i video per far vedere le rifiniture. il tutto viene spedito con la sua scatolina, eventualmente forse un regalo, vedete, la sua scatolina. Per qualsiasi informazione mi potete contattare, l'oggetto viene spedito con SDA 2-3 giorni lavorative, che dovete considerare. Niente, un saluto, alla prossima, ciao da Giuseppe.